buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi il rapido video acquisti rapido non so quanto ho acquistato dal sito perline gioielli e vi voglio mostrare le perline che ancora non avevo preso e che erano scontate quindi ho acquistato e c'è ancora la promozione in corso nel sito e quindi adesso vi mostro cosa ho preso allora iniziamo ho acquistato delle crescent il classico colore full labrador che uso tantissimo dopo le crescent vi mostro le perle swarovski che erano state appena caricate adesso purtroppo la luce è quello che non si vedono bene ecco faccio anche così addio e questa è il codice sv a 275 queste qua sono da 4 mm sono 25 pezzi il colore è il color turchese che qua sembra un colore grigio invece è turchese lo assicuro poi ho preso il rivoli swarovski da 14 mm ne ho preso uno solo e ho preso questo qui che è acqua marine come sempre questi vanno a ruba poi ho preso delle basi per orecchini a piatte queste qui da 10 mm queste sono color platino sono dei 10 mm 10 pezzi e nel sacchetto ci sono anche i gommini se vedete sì eccoli ne sono tantissimi oltre quelle ho preso le monachelle queste qui però sono quelle leggermente più grandi da 25 mm e questo è il codice mle 135 sono otto pezzi e hanno la pallina color rame appunto io color rame non ero uso molto però mi servivano quindi è questo poi ho preso delle kite ho preso queste qui color jet laser crackhead e le ho prese perché sono rimasta polgurata volta scorsa con il bracciale con le carrier e le kite appunto avevo preso quelle a fogliolina come posso dirvi e quindi ho voluto riprendere sia queste che le altre cioè queste qui che sono jet laser web il codice come vedete 0 31 per una e 0 30 per quelle mostrate prima sono bellissime io ve le consiglio come vi consiglio queste qui che sono gold splash wasabi opac e sono appunto verdi con la finitura durata sono un colore pieno quindi non è trasparente e a me piacciono tantissimo le userò quanto prima queste qui anche sono molto belle però sono leggermente trasparenti hanno la finitura argentata queste qua sono silver splash acqua non so perché acqua perché a me sembrano verdi sinceramente in camera sembrano marroni ancora peggio vabbè comunque anche queste sono super mi piacciono al poi ho preso dei cabochon a due fori che sono di questo numero di questo nome lunghissimo e sono appunto e due cab 020 il codice per trovarlo sul sito sono un sacchetto di 10 pezzi e verranno usate quanto prima devo ho già in mente come usarle poi ho ripreso delle nitbit queste le ho prese bianche white il codice è 003 le avevo terminate come avevo terminate come avevo terminato le arcos color oro queste qui sono light gold matt sono 5 grammi e queste qui appunto sono le perline che ho ordinato in anona scusate stavo dimenticando le drop duo che sono mi piacciono particolarmente e sono queste cose sono bianche così e queste qui sono brass gold brass gold come l'omaggio che mi ha visto graziana eccole qui che sono bronze gold matt sono le arcos eccole sono identiche praticamente quindi ho ricevuto queste in omaggio insieme a i nuovi cabochon e rivoli che in vetro non c'è il codice qui però ragazzi quindi vedete trovare nel sito che bello questo verde eccoli qui e le due goccioline che stanno bene con le berline turchesi si stanno bene voi adesso non le vedete bene perché questo cellulare è stato un acquisto in caso quindi fa veramente pietà io ringrazio graziana per gli omaggi ci sono dentro due kit che adesso mi metto a realizzare e vi faccio vedere le colorazioni una sull'azzurro e l'altro in questo colore bellissimo che mi piace tanto non vi dico quali progetti sono li scoprirete sul sito nei prossimi giorni per adesso vi saluto e vi lascio con la frase che mi ha lasciato graziana sul pacchetto tanti cari saluti a tutti ci sentiamo prestissimo ciao ciao